Caro saluto a tutti, da Siena, Canto Nuovo, ecco volevo ringraziare Dio per questa ultima esortazione, preghiera e canto che abbiamo fatto perché ci parla del nostro valore e ci dice di come usarlo. In tema sicuramente con l'argomento che iniziamo questa sera, come vedete alle mie spalle, oltre la crisi. Dunque abbiamo concluso da poco un'altra serie, la lode e l'adorazione e vogliamo introdurre un argomento molto di attualità per i tempi che stiamo trascorrendo in questa epoca che ci porta a vedere come Dio ci suggerisce di affrontare i momenti di difficoltà. Mantenendo in noi la nostra speranza senza negare la difficoltà che ci sta davanti. Questo è il punto che ci preme sottolineare. La soluzione è eccezionale come al solito perché Dio è strabiliante. La soluzione del Signore è quella di ritrovare il valore nelle persone, riscoprire il valore nelle relazioni tra le persone e ricorrere ad un sistema superiore sicché le persone non non dipendono più dai sistemi del mondo. Ecco, l'insegnamento, in breve sommario che faccio all'inizio per così coinvolgervi anche da un punto di vista dell'aspettativa di quello che ci attende di qui almeno per tre, quattro sessioni, è proprio questo. Cioè, riscoprire il nostro valore, lo ripeto, riscoprire il valore che c'è nelle relazioni tra le persone e ricorrere ad un sistema superiore per non dipendere più dai sistemi del mondo. Non è che noi ricordiamo il sistema di Dio del Regno dei Cieli per non dipendere da quei del mondo. È una cosa naturale. Chi è cittadino di un regno dipende dal sistema del suo regno e noi questo l'abbiamo imparato bene. Siamo testimoni della potenza del Regno di Dio che ci, diciamo, ci libera dalla dipendenza dei sistemi del mondo. Dunque, prima ancora di entrare nel vivo, voglio dirvi che in queste serate, in queste sere parleremo non solo del punto di vista di Dio, parleremo del valore che abbiamo noi e riscopriremo il valore, le qualità del nostro spirito, perché se non si capisce quello non c'è potenza niente di quello che facciamo per il Regno dei Cieli e in più parleremo, questa è un po' la nuova frontiera, almeno per me lo è e non so per quanti altri, ma di certi approcci psicologici o quasi, insomma, si parla tanto oggi di resilienza, non so chi ha mai sentito parlare di questo, sarà un argomento che tratteremo in fondo a questa serie, cioè quella capacità innata nella persona di vedere oltre un trauma, oltre una crisi, oltre una difficoltà e di avere in sé la forza di attraversare quel momento pericoloso e di uscirne. Dunque ecco, va tanto di moda questo e grazie a Dio è stato riscoperto, cioè questo valore che l'uomo ha dentro, questa qualità di vedere oltre e superare qualcosa che poteva segnarlo per tutta la vita. La chiamano resilienza, è una cosa che spiegheremo un po' più avanti, ma come vediamo poi la scienza, la filosofia, la psicologia, riescono a scoprire che l'uomo vive la sua vita, la può vivere in un certo modo grazie a delle qualità intrinseche e innate delle quali la Bibbia ci parla da sempre. Insomma, quindi per noi è un piacere poter così anche confortare il nostro dire con accenni a quello che i tempi moderni ci stanno proponendo come delle intuizioni all'avanguardia. Bene, andiamo dunque oltre nel mese di giugno, ecco così finisco l'anteprima, nel mese di giugno poi proseguiremo iniziando e forse finendo un prolungamento di questa serie dove daremo dei principi di come amministrare le finanze, le risorse. Credo che questi due argomenti, oltre la crisi e come sapere amministrare le risorse che abbiamo, siano di fondamentale importanza per tutti noi oggi, in questo momento così difficile che il mondo sta attraversando. La parola oltre, infine, ci indica proprio una delle qualità essenziali dello spirito umano perché ci porta a vedere oltre che in un modo un po' più, diciamo, per alcuni teorico o un po' più difficile come termine, si chiama trascendenza o il trascendere, cioè il vedere oltre. Noi sappiamo che è una delle qualità dello spirito umano e se noi la riscopriamo sappiamo vedere oltre ogni crisi che ci sta davanti e capiamo anche il senso della difficoltà che stiamo attraversando. Quanti uomini, quante donne vorrebbero avere questa sapienza in mano? Il Signore ce ne ha parlato, ci ha avvertiti di come passare attraverso questi momenti e quindi siamo felici di poterlo condividere tutti insieme. Naturalmente sono spunti di riflessione che ci possono portare a vedere oltre e così imbarcarci anche in ricerche. Perché no? Se qualcuno sente durante questi miei discorsi che qualcosa lo stimola, lo rende più curioso di alcune situazioni. La curiosità è una cosa buona quando tende ad approfondire un qualcosa perché lo spirito si mette in moto, perché vuoi prenderla quella cosa lì, non la vuoi perdere. Ecco, è un'altra qualità del nostro spirito, la curiosità. Non la curiosità così banale o frivola o anche negativa sotto certi aspetti, ma parlo di quella curiosità che ci spinge a non lasciarci sfuggire le cose, non come cose materiali, ma le intuizioni e la conoscenza di ciò che ci serve per vivere. E quindi, ecco, invito tutti quanti ad ascoltare se stessi e dire se sono curioso voglio non trascurare questa spinta del mio spirito. Ecco, vi sto già parlando in questi termini, naturalmente, perché non si può parlare di crisi se contemporaneamente non parliamo delle qualità che Dio ha messo nell'uomo per superarle. Perché se noi parlassimo solo delle crisi, senza dire qual è la soluzione alla crisi, sarebbe un semplice commento da telegiornale e, insomma, di questo ne abbiamo già abbastanza. Nel senso, non che siamo stufi, ma che ce n'è tanti che lo fanno, quindi non c'è bisogno. Il nostro è un compito così, dare speranza, perché c'è la speranza e non è lontano da noi, ma è proprio dentro di noi. Voglio andare avanti, ecco, ho qui delle slide un po' particolari, perché ci introducono proprio subito nel vivo della questione. Vedete, il primo punto è un principio fondamentale che vorrei che, appunto, potesse essere trasmesso con tutta la forza che ha. Niente è permanente se non Dio e le sue promesse. Ecco, questo ci introduce, come vedete il titolo, tutti riconoscono le stagioni. Ci introduce nel tema fondamentale della crisi. Se di crisi si parla è perché è una delle stagioni che noi possiamo attraversare durante la nostra vita. La nostra vita si svolge sulla Terra, che è regolata dallo spazio e dal tempo, è una dimensione terrestre, dominata dallo spazio, regolata dallo spazio e dal tempo e ci sono le stagioni, ci sono i momenti in cui si fanno certe cose, momenti in cui ne avvengono altre, momenti in cui passano quelle di prima e ne arrivano di nuove. Dall'inverno si passa alla primavera, ormai inoltrata e poi stiamo già aspettando l'estate. Cioè, la nostra vita è regolata da stagioni. Ora parlo delle stagioni climatiche, ma insomma le stagioni ci possono essere di tutti i tipi, anche in senso quasi metaforico, parlando così si potrebbe dire. L'unica cosa che è permanente è Dio e le sue promesse naturalmente, la sua parola. Perché? Perché Dio, ascoltate bene, questo è proprio il nocciolo, lo dico all'inizio perché è fondamentale. Dio è permanente, Dio non cambia mai. Quando lui si presentò a Mosè, che gli disse che lui era il vivente, colui che è eccetera, si fece chiamare colui che è quello che oggi è sempre sarà e sempre stato. Cioè, la sua presentazione agli uomini era sempre stata come Elohim, Dio onnipotente. Arriva un certo momento della storia quando appunto il suo rapporto, la sua relazione con il suo popolo ha bisogno di qualcosa di più e che si riveli lui ai suoi in un modo nuovo. Lui si fa chiamare come quello che è permanente, che esiste da sempre e sempre esisterà e non c'è ombra di cambiamento in lui. Ecco, questo io vorrei che fosse proprio un punto fondamentale e lo dico per me più che altro perché è la bussola. Perché niente è permanente se non Dio le sue promesse? Perché lui è permanente. Niente cambia in lui. Quindi se lui ha detto una cosa, lui la mantiene. Se lui ha previsto una cosa, lui la farà. Cioè Dio non cambia idea, Dio non cambia atteggiamento, non è mutevole nei suoi sentimenti, non cambia in base a come si sente, non cambia idea su di noi perché pecchiamo. Tanto vero che è venuto a salvarci e ogni volta che abbiamo bisogno di essere rialzati, non cambia idea sul nostro valore, non cambia idea su di noi. Noi stiamo facendo qui a Siena ora un corso di preparazione al Battesimo nello Spirito. Sabato scorso abbiamo affrontato il tema della del mistero della croce del Signor Gesù, come Gesù che è colui che ti salva e ti libera. L'ha fatto attraverso l'opera della sua croce. Ecco, questo è stato un momento molto bello. Qualcuno qui ha testimoniato dicendo che quando ha sentito quel messaggio ha emotivamente avvertito dentro di sé il grande valore che Dio gli ha attribuito. Perché? Perché Dio ha preso la forma umana, come me, pur di non perdermi, una volta fatto uomo si è lasciato uccidere affinché io potessi morire con lui al peccato una volta per tutte e risorgere con lui a vita nuova. Cioè il grande valore che io ho per Dio non è cambiato per il fatto che io ho peccato, ma lui è venuto a cercarmi e a salvarmi là dove ero e non cambierà idea. Per questo io alle volte dico alla gente guarda che se una volta che hai incontrato lui, anche se cerchi di levartelo di torno, non ci riuscirai e anche se non lo conosci, non ci riesci a impedirli di venire a cercarti. Ecco perché? Perché lui non cambia mai. Quindi la permanenza è un attributo di Dio, riguarda solo lui. E quindi tutto quello che dice, quello che pensa, i suoi progetti, i suoi piani per noi, pensate al suo piano per noi. Io lo ricordo ancora una volta, non ce l'ho qui, ho scritto un libro, La vita in quattro D, parla del destino dell'uomo e del piano di Dio per la vita di ciascuno di noi. È un piano che non cambia. Noi abbiamo il potere, dico potere, di sceglierlo o rifiutarlo, ma il piano non cambia. Se noi lo scegliamo, quel piano si realizza naturalmente e purtroppo, dico io tra virgolette, con i tempi che noi concediamo a Dio, perché lui ci rispetta tanto e quindi spesso sono i nostri tempi che sta aspettando. Ma è permanente. Noi siamo immersi nella temporaneità. Dio è permanente. Sono due dimensioni diverse. La sua è una dimensione permanente. Questa terrera è una dimensione temporanea, destinata a passare, a cambiare, è mutevole. In noi c'è una parte della dimensione permanente, che è il nostro spirito, e c'è una parte della nostra dimensione mutevole, che è la nostra anima, il nostro corpo. Quindi siamo un incontro tra cielo e terra e in noi viene a dimorare colui che è il permanente, in eterno, cioè Dio. Chi crede in Gesù Cristo ha questa, ha la vita eterna, cioè quella vita che Dio ha preso viene a dimorare in lui. Lo spirito santo dimora nello spirito permanente dell'uomo. Ecco che dunque l'uomo è proprio uno snodo. Scrivo in questo libro che lo spirito dell'uomo è lo snodo tra cielo e terra, perché c'è questo aspetto. Dunque noi abbiamo qualcosa di permanente, mentre altro è mutevole. Se noi concentriamo la nostra attenzione, la nostra occupazione, la nostra preoccupazione, le nostre risorse su ciò che è mutevole, rischiamo di perdere di vista ciò che è permanente. E se seguiamo ciò che è mutevole, finiremo per trascurare, eliminare ciò che è permanente secondo Dio e non avremo quel carattere identificatorio che è il nostro spirito di donare quel quel sapore di permanenza anche a ciò che può cambiare. Mi spiego meglio. Se noi non riscopriamo le qualità e il funzionamento del nostro spirito in relazione, combinate con la nostra anima e il nostro corpo, noi non riusciamo ad attingere a ciò che Dio ha messo in noi. E rischiamo invece di inseguire ciò che oggi è così, domani è in un altro modo e ci disorientiamo, rimaniamo confusi. Se invece di rincorrere le risorse del mondo, i soldi, la fama, eccetera, noi rincorressimo, per così dire, se si può dire, la nostra identità e le qualità permanenti che Dio ha messo in noi e facessimo fruttare quelle, piuttosto che cercare di prendere da fuori per garantirci la sopravvivenza, noi avremmo, diciamo, la possibilità di non seguire la mutevolezza, ma di rimanere a galla, nonostante le crisi. Sembrano parole un po' teoriche, forse mi rendo conto, per qualcuno che non ha fatto esperienza di questo, ma siamo qui per parlarne proprio per questo, per gettare anche un seme di curiosità. Dio promette che niente è permanente, guardate, una delle promesse permanenti di Dio è che niente è permanente. Guardate, ecclesiastico, qualcuno lo chiama Coelet, questo mettetevi d'accordo con voi stessi, come volete fare, per noi va sempre bene, in un modo o in un'altro, dico. Capitolo 3, verso 1 dice, per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Che cosa vuol dire? Dio promette che niente è permanente, c'è un momento per ogni cosa, sotto il cielo c'è un tempo per ogni faccenda, per ogni occupazione, per ogni cosa che fai, per ogni cosa che accade, c'è un suo momento. Quindi se stai cercando la permanenza in quello che accade sotto il cielo, non la puoi trovare, perché io ti prometto che tutto cambierà, tutto cambia. Dunque, questa è una promessa di Dio, non c'è niente di più permanente del cambiamento della nostra dimensione. L'unica cosa che non cambia è ciò che Dio ha messo di se stesso direttamente in noi, il nostro spirito. Quando Dio creò l'uomo, se ricordate, andate al libro della Genesi, al capitolo 1, versetto 26, lo ricordo non peraltro perché è il momento in cui Dio dice ora facciamo l'uomo, e dice di farlo a sua immagine e somiglianza. E quindi questa immagine e questa somiglianza come gliela dà? Lo leggeremo alcuni versi dopo, sempre il libro della Genesi, quando dice che formò il corpo con la terra, quindi con un elemento mutevole, formò il corpo con un elemento mutevole e poi soffiò dentro questo corpo fatto di terra il suo alito di vita. Ecco qui il momento in cui la permanenza è entrata nel cambiamento. Capiamo bene che se noi riusciamo a scoprire le risorse permanenti che abbiamo dentro, anche se c'è crisi fuori, questa alla fine non può superare la permanenza che c'è in noi. Quindi non stiamo cercando questioni così, diciamo, teoriche o altro, stiamo ne facendo filosofia, anche se questa è filosofia sotto questo profilo, perché è un modo di affrontare la vita e quindi filosofia non è altro che lo stile di vita che hai di fronte alla vita che ti è proposta. Dunque, vedete Ecclesiaste 3.1? Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Questa è una promessa direi quasi rassicurante, anzi non quasi, per me lo è rassicurante da parte di Dio. Nel senso, uno dei problemi dell'uomo è che vedendo che tutto cambia intorno a lui, ha il desiderio di tenere tutto sotto controllo, perché avverte il cambiamento come qualcosa di minaccioso e pericoloso. Se di fronte all'eventuale minaccia di ciò che cambia e che non può tenere sotto controllo, l'uomo ricorre alle qualità divine che Dio ha messo in lui quando lo ha creato, attraverso ciò che è permanente in lui e che viene da Dio, può superare la mutevolezza delle situazioni esterne e anche di quelle interne a lui. Se non fa questo, finisce per seguire le cose mutevoli e dunque ha bisogno di controllo. Quindi la vita non diventa più una espressione della propria identità che è permanente. Non parlo di personalità, non parlo delle modalità espressive della mia identità, ma parlo della mia identità, è permanente, il mio spirito viene da Dio, è l'alito di vita che Dio ha soffiato in me, viene da Lui, è Lui stesso. Dunque questa è la risorsa a cui posso attingere la mia identità che non cambia mai. Ciò che cambia è il modo in cui la posso esprimere. Se dipendo dai sistemi del mondo, non posso che esprimerla secondo i sistemi del mondo. Come funzionano i sistemi del mondo? Funzionano semplicemente così. Seguono una logica diabolica, scusate per chi non è ad uso a questi, è diabolica perché il principe di questo mondo, ce lo dice il Signore stesso, è il diavolo. E quindi la Bibbia ci dice anche che gli uomini che sono sotto il potere del mondo, giacciono sotto il potere di Satana sostanzialmente. Dunque i sistemi che regolano la vita sulla Terra secondo il mondo, cioè secondo il sistema organizzato da colui che ha usurpato il potere su questo pianeta, è che Satana, se noi seguiamo quei sistemi lì, non finiamo altro che inseguire la mutevolezza, cambiando secondo i sistemi. Guardate, i sistemi cambiano continuamente. Guardate la politica, non c'è mai niente di stabile. Guardatela nei secoli, nei millenni, abbiamo una visione piuttosto ampia. Non c'è niente di stabile, cambia continuamente e ancora la ricetta magica non l'ha trovata nessuno degli uomini, perché è un sistema del mondo così come è pensata. E ogni volta che vogliono cambiare il tenore di vita, vogliono cambiare il benessere dei cittadini, vogliono introdurre situazioni, che cosa fa la politica? opera sui sistemi e non può cambiare i sistemi, perché di per sé è un sistema. E quindi cercando di cambiare i sistemi può solo introdurre un elemento di cambiamento nel sistema che continua a controllarti e dominarti. L'unico cambiamento che vale la pena di prendere in considerazione non è quello dei sistemi, perché può andare bene per un po', ma poi crolla di nuovo e sorge un altro, non sistema, ma un altro modo di esprimersi dello stesso sistema. La parola sistema la possiamo prendere anche come è chiamata nella Bibbia spesso, la parola è usata molto spesso, la parola mondo in greco, vecchio Nuovo Testamento, uso il greco cosmos, che vuol dire sistema organizzato di potere sulla terra. Quello è il cosmos, anche si intende in questo modo. Dunque il mondo di cui ci parla la Bibbia, come il sistema satanico che domina la vita di coloro che ci stanno sotto, è quel sistema organizzato secondo le motivazioni di colui che lo domina. Dunque se noi allora invece di cercare di cambiare sistemi che sono mutevoli, ma è sempre, è come un'altra faccia della stessa medaglia. Noi cambiamo le persone e promuoviamo il cambiamento nella persona di modo che esprimano ciò che è permanente in loro, il cambiamento non può più farci soccombere, non può vincere su di noi, perché è quella identità permanente che in noi viene da Dio che ha già sconfitto il mondo e il suo principe. Le stagioni e la loro potenza. Guardate perché le stagioni sono importanti. Facciamo riferimento alle stagioni climatiche, ci aiuta molto in questo senso, perché garantiscono il cambiamento. Dio si è tanto preoccupato di farci sapere che il cambiamento è permanente. Sicuramente quello che c'è oggi, domani non c'è, cambierà, cambierà. Tutto quello, il modo in cui esprimiamo la nostra identità, cambierà. Questo lo dico anche specialmente per chi si deve sposare, per chi vuole avere relazioni stabili con una persona. Guarda che il tuo futuro coniuge non sarà quello che è oggi, cambierà. Perché esprime la sua identità in un modo diverso. L'identità è la stessa, ma il modo di esprimere è diversa, quindi cambierà. Preparati. Questo è il senso di quello che sto dicendo oggi. Preparati al cambiamento, perché Dio l'ha promesso. Quindi, non che cambino le motivazioni, non cambia l'identità, non cambiano i valori, cambia il modo di esprimere e cambia il corpo. Dunque, Dio si è tanto preoccupato di farci sapere che tutto è temporaneo su questa vita, su questa terra, tranne Lui, che ha fatto sì che Lui garantisse il cambiamento. Che stagione? È un modo molto semplice di guardare a questo. Le stagioni però, vedete, danno speranza. Perché? Perché nel modo di affrontarle, con il nostro elemento permanente, con le qualità permanenti che abbiamo, voglio dire, se noi quando eravamo nell'inverno non avessimo avuto la sicurezza che dopo sarebbe venuta la primavera, ma come si faceva a attraversare l'inverno? Non so se riuscite a capire, a prendere quello. Cioè, la speranza che è l'attesa fiduciosa e certa, proiettata nel futuro, che una cosa avverrà, come facciamo ad avere la speranza se non sappiamo che quello che c'è oggi cambierà? E io sto dicendo questo per dire che siccome niente resta uguale, la nostra speranza è alimentata proprio da questo. E cioè, se oggi stai attraversando una situazione economica difficile, stai tranquillo, stai sicuro, cambierà. Niente è permanente. Se oggi sta attraversando una malattia, cambierà. Niente è permanente. Se sta attraversando una crisi coniugale, cambierà. Come? Non lo so, ma niente è permanente. Niente rimane così come è oggi, tranne Dio e le sue promesse. E Dio ha promesso che tutto cambia. Quindi, non prendere decisioni permanenti a difficoltà temporanee, perché se no, perdi ciò che la tua speranza ti sta già indicando. Domani cambierà. Le crisi non sono mai permanenti. Dunque, oggi siamo in una crisi economica, politica e via dicendo. Ecco, anche questo, noi guardiamolo con questa speranza, con questa fiducia e attesa, cambierà. Non è permanente, non può durare. Quando te guardi un tuo problema in faccia, torna la crisi economica. Guardiamo che oggi affligge molte persone. Mancanza di lavoro, redditi insufficienti, eccetera, eccetera. Imposizioni fiscali insopportabili, almeno parlo per l'Italia. Situazioni che sembrerebbero, così, ad una prima vista, quasi insopportabili. Io ripeto, che cosa puoi fare? A quella difficoltà di oggi puoi dire, cambierai, non sei permanente. Puoi dirglielo perché così ha promesso Dio. E così è. Il punto è non solo attingere alle risorse interiori che hai nella tua identità, che non cambia, ma anche attivare un sistema superiore al sistema che ha generato la difficoltà, affinché mettendosi in moto il sistema del cielo, quelle qualità permanenti trovino il contatto e il Signore possa agire nella tua vita, anche attraverso di te, per gli altri. Il che è una pseudo novità per molti. Nella crisi, infatti, si mettono in moto delle situazioni strane, quasi che sia più facile solidarizzare con le altre persone, sentirsi più... Ma ne parleremo, ne parleremo avanti. Quindi ha degli aspetti positivi anche in questo senso. Dio non ha crisi perché è permanente, quindi non ha alti e bassi. Dio non sta oggi bene, domani non sta bene, o noi mancano i soldi o altro. Dio è proprietario di tutto, abbiamo detto. Quindi lui non ha crisi e la chiave per noi è vivere oltre le stagioni. Quindi, ve lo ripeto, se attraversiamo un momento di inverno, la nostra chiave è la speranza, cioè non l'augurio, la speranza, l'attesa fiduciosa che arriverà alla primavera e addirittura all'estate. E quindi, quando sono in inverno, non posso fare l'errore. E questo lo senti dire a un mio amico che mi è rimasto molto impresso, perché diceva che, essendo sicuro che dopo l'inverno l'estate arriverà, se durante l'inverno faccio l'errore clamoroso di buttare via tutti i miei vestiti da bagno, costumi da bagno, le cose che servono per l'estate, quando arriverà l'estate non sono pronto, non sono preparato. E allora che cosa ci insegna la crisi? La crisi ci insegna a pescare nella nostra identità, nelle nostre radici divine. Ci insegna a mettere in moto il sistema del cielo, saltando a un sistema superiore, attivandolo con cosa? Chiavi, principi, ne parleremo poi a tempo debito. E che cosa? Nella crisi, nella difficoltà, guarda oltre. Hai la qualità della trascendenza dentro di te, guarda oltre. Sii felice perché arriverà l'estate e preparati. Preparati ora. È un tempo di preparazione perché dopo passerà. E quando arriva l'estate non può trovarti impreparato. Dunque, questo è un messaggio che io, per me, ho preso come di grande speranza, quando lo sentì la prima volta, perché ci insegna a non autocommiserarci, a non prendere soluzioni definitive a problemi temporanei e a sfruttare le risorse che Dio ha messo in noi. Mi ha insegnato ad attivare il regno dei cieli. E questo produce effetti sulla dimensione terrestre, tempo-spazio, che sono al di là di quello che noi possiamo immaginare o pensare. Perché Dio non solo è permanente, ma è anche Elohim, l'Onnipotente. Non ce lo schiardiamo. Allora, nel Salmo 100, mi pare sia, Salmo 100 dice riconoscete che il Signore è Dio. In sostanza dice riconoscete che Jehovah è Elohim. Cioè riconoscete che colui che è permanente, il vivente, colui che non cambia mai, è l'Onnipotente. Ma se la nostra sorgente è colui che vive in Eterno ed è Onnipotente, se attingiamo a Lui, di cosa possiamo avere paura? Chi mai potrà farci paura? Una crisi di un sistema diabolico che organizza il controllo degli uomini economico, religioso, politico. Forse ci potrà far paura la morte, forse la spada. Ricordate le parole di Paolo. Chi ci può separare dall'amore di Dio? Questo Dio che non cambia mai e che è Onnipotente. Ecco, questa è un po' la nostra chiave, il vivere oltre le stagioni. Vai oltre, siamo portati a vedere oltre il nostro naso. Le stagioni incentivano i piani per il futuro. Cari amici, questo è il nostro messaggio stasera. È un momento difficile, lo sappiamo tutti, ma attivando con i principi del Regno dei Cieli il Governo Onnipotente di Dio su questa Terra, noi possiamo fare piani per il futuro e li vedremo realizzati, se sono secondo la sua volontà. Quindi preparatevi, è un momento di crisi, preparati. Io parlo con molti amici miei che sono colleghi giovani, avvocati, sono giovani, lo dico, se ce ne fosse qualcuno magari mi ascolta, e piangono tutti la crisi, e stanno tutti male, e non hanno un soldo, ma è la verità, è diffusa questa cosa. E quando mi vengono a dire la solita lamentela, un po' una cosa vittimistica, ormai è diventata un po' di moda, quello di autocommiserarsi, in qualche modo ti dà un minimo di soddisfazione. È una magra vendetta, una magra consolazione, però è quella che un po' tutti stanno raccogliendo, sembrano i bollini della Coop, l'autocommiserazione, almeno mi sento un po' a posto. E io le dico, ma in questo momento difficile, che non hai un soldo, non hai clienti, quelli che hai non pagano, preparati! Dice, ma a cosa? A domani! Ma perché devo prepararmi? Perché cambierà! E che devo fare? Studia l'inglese! Scusate, ora dico una cosa così per dire, ma studia l'inglese! Da dove è venuta fuori sta crisi? Si sono abbattuti i confini, tutto è globalizzato, niente è più locale, studia l'inglese, inizia a pensare a un diritto internazionale, allarga i tuoi confini, preparati! Io glielo dico, ma non è facile, perché le persone sono così immerse nella situazione che non vedono oltre. La nostra capacità è di sapere quello che abbiamo dentro e di vedere oltre. ce l'abbiamo! Non è che dobbiamo chiedere oh Dio, ti prego, dammi la capacità di vedere oltre. Dio dice, ma non so di cosa parli, te l'ho data quando ti ho creato, insomma, ce l'hai dentro da sempre, forse è coperta, forse ti hanno detto che non è vero, forse ti hanno detto che la crisi ti ucciderà, forse ti hanno detto che, ma l'unico che è permanente ed è onnipotente, ti ha detto una cosa diversa, ha messo in te il suo spirito. Dunque, ecco, comprendiamo quanto possa essere e le stagioni portano a vivere per fede. Perché? Possiamo cambiare e tradurre la parola fede con la parola fiducia. Perché? Perché io ho fiducia che cambierà. Ho fiducia che se attivo il regno dei cieli e mi preparo per la nuova stagione che deve venire, io non sarò mai colto di sorpresa. il piano di Dio si realizzerà per la mia vita. Io ho questa fiducia che Dio ha previsto per me personalmente una vita eterna, cioè dall'eternità l'ha pensata ed è quella. A un momento, parlare di momenti in eternità è un po' difficile, ma a un certo punto questa vita è calata in una dimensione temporale e si realizza un piano temporale che però è eterno. Quella è la vita eterna per me, è il mio destino. Quando io metto i piedi nel mio destino, cioè faccio quello che Dio vuole per me, io sto entrando nel solco che Lui ha tracciato per me. E come può una stagione, un sistema diabolico, dei malvagi, cambiare il corso di qualcosa che viene da Jehovah che è Elohim, colui che è il vivente e che è l'Onnipotente? Com'è possibile? È impossibile. Dunque, io vivo per fede. Questo è il succo di quello che sto dicendo. Non dico io, la persona può dire io vivo per fede, cioè con fiducia, con fiducia in questo momento di difficoltà mi preparo perché cambierà e quando il cambiamento sarà arrivato mi troverà pronto. Il cambiamento non è solo dall'inverno all'estate, ma anche dall'estate all'inverno. Se quando sei in estate pensi a buttare via a maggior ragione i cappotti, quando arriva l'inverno poi hai freddo. Insomma, ogni stagione ha il suo momento per dire la godo e mi preparo. La prudenza è una virtù ed è prudente in un momento guardare oltre, prepararsi per quello che sicuramente verrà. Sicuramente verrà. Dio ci dice in un salmo fermatevi e conoscete che sono Dio. Questo è molto importante perché nel tourbillon della nostra vita un po' frenetica ci perdiamo di vista cioè perdiamo di vista noi stessi e Dio molto spesso e Dio ci dà un consiglio dice guarda fermati e conosci che sono Dio. Cioè diventa mio familiare in sostanza è un quindi fermati in questo momento e vedi la salvezza ripeto sei in un momento di difficoltà sei in un momento di crisi di tutti i tipi relazionale economica e quant'altro coniugale con i figli cioè fermati e conosci che lui è Dio cioè nel 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 vortice fermati e conosci che lui è permanente ed è onnipotente fermati e vedi la salvezza sei in un pericolo fermati lui si chiama Yeshua Dio che salva lui è la salvezza fermati e vedi lui conosci lui dico come si fa apprezzare la salvezza e ogni tanto bisogna essere in pericolo perché se no la salvezza non si apprezza come di quando è che si apprezza un amico nel momento del bisogno è una frase fatta non è che ci voglia granchetta l'amico si vede nel momento del bisogno se non ha mai bisogno quando lo vedi l'amico sono momenti in cui l'apprezzi e allora ecco quando siamo nel mezzo a un turbine invece di spendere tutte le nostre risorse le nostre energie a dare cibo al turbine mettiamo il nostro sguardo su colui che è permanente e vive in noi e noi passeremo oltre quel turbine perché non ci appartiene vedete stai saldo nella tempesta voglio ricordare a tutti un episodio evangelico piuttosto conosciuto quindi non lo leggo ma tutti voi siete in grado di poter ricondurre le mie parole a quella storia Gesù è su una barca con i suoi e stanno attraversando il lago dice il mare ma è un grande lago in realtà e mentre stanno attraversando con la barca c'è una tempesta una tale tempesta che le onde passavano sopra la barca dice cioè è una roba grossa io se mi immagino di notte buio pesto in mezzo a un lago una barchetta non so quanto sia stata grande insomma barca dal lago da pescatori e queste persone un pugno un poco più di una decina ma insomma nemmeno poche poche le onde che passano sopra insomma è una cosa grossa e che fa il Signore dorme se vi ricordate in uno degli episodi perché lui si addormenta e comunque nei vari episodi dove queste situazioni sono ripetute vanno da lui e cominciano disperati cioè non sono andati oltre Gesù gli aveva detto salite sulla barca e andiamo all'altra sponda allora la parola di Dio è permanente se loro avessero messo la fiducia e la speranza nella parola permanente di colui che è permanente ed è onnipotente quindi la realizza comunque avrebbero attraversato la tempesta in un altro modo cioè saremo arrivati all'altra sponda invece si fanno assorbire dalla tempesta mettono le loro energie nella paura spera di morire e dicono signore muoriamo c'è un'espressione dice proprio signore muoriamo e il signore che dormiva oppure in un altro in un altro episodio è un po' diverso ma insomma si alza e gli dice ma voi non avete fede fede in cosa nelle mie parole questo lo dico così come come un'interpretazione non è interpretazione la prima ha detto andiamo all'altra riva quindi ecco lui ha detto non avete fede dice che è gente che non ha fiducia perché se aveste avuto fiducia nelle parole permanenti di colui che è permanente ed è onnipotente sicuramente non vi sareste impauriti fatti prendere dal panico avreste affrontato la tempesta con le qualità che avete e quali sono le qualità lui si alza sgrida la tempesta sgrida i venti cessano le onde finisce il pericolo e tutti dicono ma che potere che potenza che autorità è mai questa comanda addirittura i venti le onde li obbediscono ma chi è ecco insomma è da qui pensano all'onnipotenza di Dio giustamente ecco allora nella tempesta il nostro modello non sono quegli uomini presi dal panico che mettono tutte le loro energie nella paura di morire tanto che credono di morire quando metti le energie nel pericolo sicuramente non per superarlo andare oltre ma nel pericolo credendo che il pericolo ti distruggerà metti fede nella distruzione e sarai distrutto molto probabilmente al contrario Gesù dice di mettere fiducia nelle sue parole che sono permanenti e se ha un piano per te il suo piano è permanente quindi il suo piano per te si realizzerà sta saldo nella tempesta nella tempesta che cosa vuoi fare? loda Dio guardate non prendete le mie parole lo ripeto l'ho già detto due o tre volte stasera come una delle affermazioni teoriche sono affermazioni praticissime lodare Dio vuol dire abbiamo appena fatto una serie ci sono almeno otto o nove sessioni registrate sul nostro sito e su varie piattaforme da YouTube in su lodare Dio vuol dire in qualsiasi situazione alzare le mani al cielo e ringraziarlo per ciò che ha fatto ciò che sta facendo e ciò che farà anche se non l'ho ancora visto perché Lui è buono è grande è eccelso è onnipotente è Dio buono è la mia origine è mio padre e Lui provvederà ad ogni mio bisogno per cui ti ringrazio fin da ora con la gioia di sapere che le tue parole sono permanenti le tue promesse si realizzeranno io sono nelle tue mani qualsiasi cosa succede tu sei responsabile di me sei il mio re e quindi io l'accetto come la tua protezione vedete questo è lodare Dio quindi nella tempesta sta saldo cioè metti le tue energie in colui che vive in te e nelle qualità che ti ha dato nel tuo spirito per esempio il nostro spirito è uno spirito di coraggio ce lo dice sempre la Bibbia io ho messo in voi uno spirito di coraggio Dio ci ha messo dentro uno spirito di coraggio il nostro spirito è coraggioso è il tuo spirito santo è uno spirito di coraggio così ci dice e noi che ne facciamo di quel coraggio nella tempesta lo oscuriamo e investiamo quella energia non nel coraggio ma nella paura e la paura si attiverà per far accadere il pericolo che vuole evitare dunque nella tempesta sta saldo vedi la salvezza e loda Dio l'hai mai visto uno durante una tempesta con le mani alzate che ringrazia Dio perché arriverà all'altra sponda questi si chiamano i vincitori ci sono dei best seller andate a vedere ci sono dei libri nati per vincere ce n'è uno che è una mia cara amica la chiamo amica perché si chiama Muriel James è molto vicina al mio pensiero ci ha dato molti spunti interessanti ma è nati per vincere cioè siamo vincenti i vincitori sono quelli che nella tempesta non cedono il loro potere alla paura di non farcela ma scoprono in loro la potenza che Dio ha messo in loro perché sanno che l'ognipotente vive in loro e superano ogni tempesta ciò che sta arrivando questo è un altro principio principio numero 5 ciò che sta arrivando viene per passare oltre allora dice uno ma perché è venuto questo momento così difficile nella mia vita dove attraverso delle situazioni pericolose delle situazioni che mi age perché questa parola l'avete mai detta in un momento di difficoltà quante volte ecco questa è una risposta che dà risposta ma ti fa andare oltre dice quella è venuta perché per passare oltre non rimane guardate in alcune difficoltà in questi mesi indietro quante volte abbiamo sentito dire che per difficoltà economiche dalle famose cartelle di qui taglia in avanti o di altre situazioni di imposte tasse debiti per non dire di peggio di altre cose alcune persone si sono uccise allora di fronte a una crisi temporanea hanno adottato una soluzione permanente la crisi è destinata a passare ma loro non tornano indietro e non si godranno quello che c'è davanti quindi se adottiamo una soluzione permanente attenzione queste persone era come il loro modo di dire voglio un'altra vita non voglio questa vita c'è qualcuno che dice che il suicidio è la massima espressione del desiderio di vivere e cioè non voglio questa vita ne voglio un'altra vabbè chiuso quest'argomento ma lo dico per dire quanto può essere penalizzante rispetto al godimento della vita cedere potere alla crisi piuttosto che a Dio che è permanente e che mette la sua santità a nostra disposizione è quasi illogico sono convinto che se ora vi fermate un attimo troverete illogico il modo di ragionare del mondo di dare potere alle difficoltà non dico di ignorarle ho detto ho parlato di prudenza non dico di trascurarle ho parlato di lungimiranza di fiducia di speranza di permanenza delle qualità divine in noi insomma sono altri concetti e questa è la domanda sei costruito sulla roccia questa domanda un altro principio è il principio numero 6 credo di avere altri 5 minuti soli ve ne voglio parlare la parola il Vangelo ci parla di un'altra storia che Gesù appunto narra ed è la storia della casa costruita sulla roccia e di quella costruita sulla rabbia sulla sabbia scusate e quando racconta questa storia dice che su queste case sono arrivate tempeste venti impetuosi fiumi insomma di tutto acque da tutte le parti e venti e la casa costruita sulla sabbia non ha retto all'urto ed è ceduto alla difficoltà temporanea perché poi passa come un temporale poi passa se ne va al contrario la casa costruita sulla roccia resiste alle intemperie temporanee perché perché è costruita sulla roccia allora cari amici questo è il messaggio noi siamo costruiti sulla roccia dentro di noi c'è il nostro spirito non è dentro di noi scusatemi noi siamo noi siamo spirito anima e corpo e questo spirito è come dire lo zoccolo duro della nostra persona perché la nostra identità è come la roccia e lì viene a dimorare lo spirito di Dio che porta Gesù la vita la roccia dunque ecco che cosa sto dicendo che proprio lì in quel nucleo che qualcuno chiama nucleo esistenziale nucleo interiore spirito umano come volete ma è qualcosa che è saldo è lì è pronto all'uso se noi lo ignoriamo diamo potere alle tempesti se noi invece ci fermiamo conosciamo che lui è Dio e gli diamo lo spazio a lui e alle nostre qualità non può che restare saldo uno nella tempesta e vedere oltre e godersi l'oltre il problema non è solo vedere oltre ascoltate anche godersi l'oltre questo è uno dei problemi più grandi che ci sono molte persone ma dico tante non hanno non si danno il permesso di godere della vita molte sopravvivono molte vivono poche godono la vita e questo non è questione che ci ha impedito ma è una questione di permesso quando noi vediamo oltre è il tempo dell'attesa l'oltre verrà vedere oltre è dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio quando noi vediamo oltre quando arriva all'oltre che abbiamo visto lo possiamo godere in quel momento cioè è una cosa bella che ci accade perché stiamo mettendo i piedi nel nostro destino e quando siamo con i piedi nel nostro destino abbiamo soddisfazione di vivere può essere dura può essere non dico che è una passeggiata vivere secondo il nostro destino non è qualcuno pensa che cascano le cose dal cielo no 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 Dio le fa le cose con te Dio fa le cose insieme a noi quando Dio mi ha proposto delle cose che sono per me e sono del mio destino io parlo sto testimoniando di me e ho messo i piedi in quel solco benedetto di Dio ho dovuto pedalare poi ma pedalare alla grande perché insomma il godersi la vita non vuol dire non far niente aspettarsi che quella è magia è illusione è un'altra cosa non c'entra niente godersi la vita vuol dire apprezzare le nostre qualità ed esprimerle appieno per il successo cioè fare quello che Dio ha previsto questo è successo fare quello che Dio ha previsto ecco questo è essere costruiti sulla roccia e quando ci sei dentro te lo godi e già quando sei lì che te lo godi vedi già oltre e gusti già all'oltre e quando arriva te lo godi e poi gusti già all'oltre insomma la vita con Dio è avventurosa a volte è anche faticosa non dico mica di no ma ma c'è soddisfazione c'è piacere nel viverla cari amici non date forza alle difficoltà non rispondere in modo permanente ad un problema temporaneo me lo ero anche scritto così almeno ora rimane anche nelle slide per chi lo volesse vedere credo di non avere più tanto tempo torno e chiudo con questa parte dell'Ecclesiaste l'abbiamo iniziata prima una veloce lettura per ogni cosa c'è il suo momento il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo c'è un tempo per nascere e c'è un tempo per morire molto spesso noi vorremmo decidere quando è il tempo di nascere per gli altri perché noi non lo possiamo decidere per noi stessi e vorremmo decidere quando è il tempo giusto di morire per noi o per gli altri Dio ci dice che c'è un tempo per nascere e morire nella Bibbia c'è scritto che il giusto morirà sazio dei suoi giorni vuol dire che vivrà fino in fondo i giorni che Dio ha previsto e che erano scritti prima che lui nascesse se vivi il piano di Dio se scegli di vivere un altro progetto che non ha fatto Dio ma che fa il diavolo allora quel piano non si realizza più insomma quindi noi siamo destinati a vivere per il tempo che Dio ci ha fissato secondo il suo piano tutto sta quanto viviamo il suo piano quanto è questo tempo quando è quel momento lo sa lui ma c'è un tempo per nascere c'è un tempo per morire c'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare mettetelo questo qui mettiamolo nella nostra vita pratica c'è un tempo per iniziare delle attività e c'è un tempo per chiuderle cari amici è una difficoltà enorme delle persone è quello che vogliono non riesci mai a lasciare quello che ha iniziato ti sta tirando in un baratro pensa a dei lavori delle attività delle professioni che ti stanno portando alla rovina ma non molli perché di famiglia si fa così perché allora c'è un tempo per piantare un tempo per sradicare quando è il momento segui lo spirito Dio ti porta oltre sempre non c'è mai un momento in cui ha detto ora faccio questo ed è così per sempre dunque ecco siamo in movimento non vado avanti perché voglio dirvi molte altre cose su questo brano e altrimenti ne perderemo la bellezza se vado di fretta dunque abbiamo iniziato questo accenno di questo tema sulla vedere oltre andare oltre godersi l'oltre vi invito tutti quanti mercoledì prossimo a tornare qui con noi per approfondire questo tema e insieme vedere oltre nel piano di Dio a tutti un caro saluto da Siena canto nuovo